Fratelli d'Italia diventa il primo partito non solo nel comune capoluogo ma anche in provincia dove peraltro in alcuni comuni come ad esempio quello di Civitella va oltre il 30%. Vi dirò di più, siamo oltre il 40 a Diete d'Alda e in molti comuni della Valtiberina, quasi anche lì al 40, a Monterchi, Sestino, un risultato che premia sicuramente fa la differenza all'esistenza di una classe dirigente sul territorio che si impegna, si fa vedere e soprattutto è attiva ed è stata attiva nonostante il gioco delle candidature abbia portato ad Arezzo a non avere il candidato Francesco Macri alle nominale che tutti ci aspettavamo. Questo è il neo in questa vittoria comunque schiacciante? È un neo che sopportiamo nel senso che comunque abbiamo fatto la nostra assoluta campagna elettorale per Tiziana, chiaramente nel frattempo abbiamo fatto la nostra campagna elettorale per il proporzionale in maniera del tutto legittima e sempre spingendo Tiziana perché era il candidato nominale come la Lega ha spinto la nostra Simona Petrucci che porta a dimostrare per l'ennesima volta che è importante i flussi e riflussi storici di un partito ma dove c'è la classe dirigente a livello locale la differenza si vede su un 25-26 di media nazionale qui navighiamo al 31 e circa il 28 di media capite anche voi che a San Giovanni Valdarno hanno quasi il 20% Fratelli d'Italia o quasi il 24% a Montevarchi per noi sono grandi soddisfazioni e indicano che il nostro partito ormai è votabile a prescindere ovunque nonostante la campagna di demonizzazione che c'è stata spero che finalmente qualcuno del PD colga le indicazioni di voto e Francesco Macri commenta con una nota il risultato delle urne per l'Italia dice il momento della speranza per il centro-destra e in particolare per Fratelli d'Italia è il momento della responsabilità Arezzo ha dato il suo contributo a questa vittoria di Giorgia Meloni in questo territorio il centro-destra ha conquistato prima Arezzo e poi gran parte dei comuni infine ha ottenuto la presidenza della provincia l'Italia è ormai stabilmente un paese che guarda alla destra con speranza e fiducia dovremo esserne all'altezza